Ragazzi miei, ragazzi cari, ben ritrovati in questo nuovo video. Dai, che stanno iniziando gli europei, tra poco inizierà questa spedizione per l'Italia e avremo tante cose di cui parlare, anche di calcio giocato, anche se è estate. Diciamo che anche l'anno prossimo con il Mondiale per il Club ci divertiremo, quindi le estati diventano bene o male dei campionati, delle competizioni estive in cui non ci faremo mancare il pallone che rotola. Però voglio parlare anche un pochettino di quello che sta succedendo in Serie A perché l'altro giorno abbiamo parlato di domino delle panchine, avevamo anche immaginato Allegri su una delle panchine ancora libera in Serie A proprio perché c'era stata questa risoluzione del contratto. A quanto pare Allegri sarà destinato all'estero, molto probabilmente perché in Serie A bene o male tutte le panchine stanno andando al loro posto. Io per un po' ho pensato anche ad Allegri all'Alastio in seguito a quello che è successo tra Lotito e Tudor e proprio di questo volevo parlare un attimino perché si è passati da Sarri a Tudor entrambi con delle dimissioni con dei problemi legati allo spogliatoio. In realtà Sarri aveva anche dei problemi di salute in famiglie e quindi questa cosa sicuramente l'ha spinto a dare le dimissioni ma se ci pensiamo sia Sarri che Tudor hanno avuto tra virgolette problemi legati ai calciatori, legati alla società. Addirittura Lotito aveva detto che Sarri era stato tradito da qualcuno all'interno del gruppo squadra, si era parlato addirittura di una spia, quindi argomenti non proprio dolcissimi, non stiamo parlando di acqua di rose. e invece Lotito che ha parlato nuovamente per descrivere, per fare in modo di informare i tifosi di Razio che ci sono le idee chiare sull'allenatore ha detto ma sì, come si permette Tudor di venire qui e dire che vanno cambiati otto giocatori quando per noi il gruppo è assolutamente ok così. Ora, se prima il gruppo aveva tradito l'allenatore, invece ora è ok, c'è qualcosa che non va, anche se ovviamente la valutazione viene fatta dal punto di vista puramente tecnico. che però anche qui secondo me l'Alastio un pochettino dovrebbe ragionarci bene perché è terminata un po' quella che era stata l'Alastio dei tempi d'oro. Si sta chiudendo un ciclo, i vari Dius Alberto, i vari Felipe Anderson, i vari Immobile, l'anno scorso Milinkovic-Savic, insomma l'Alastio che anche nell'anno della pandemia stava riuscendo a lottare addirittura per lo scudetto insieme alla Juventus di Sarri, tra l'altro, e all'Inter di Conte, tra l'altro, proprio ora che invece l'Inter è nata da Enzaghi e Sarri e è passato dall'Alastio, quindi intrecci anche abbastanza curiosi, però quell'Alastio lì bene o male non esiste più, quindi anche dal punto di vista tecnico secondo me dovrebbero ragionare un attimo. E alla fine invece, molto probabilmente, è quasi praticamente fatta, sarà Baroni il nuovo allenatore dell'Alastio, un altro ex Juve perché è passato dalla primavera, dalle giovanili della Juventus, sinceramente un allenatore che mi lascia un po' perplesso, Milan Fonseca, Lazio Baroni, Monza Nesta, queste sono le ultime panchine bene o male di rilievo in Serie A di squadre importanti con progetti ambiziosi, semiambiziosi, quello che è, ma nessuno di questi non mi convince al 100%, voglio sapere anche un po' la vostra opinione che ci sono nei commenti perché poi sono argomenti che si intrecciano con la Juve, dato che dovremmo giocare la Serie A e dato che Conte al Napoli secondo me alza anche molto il livello di competitività del campionato italiano, ci sono delle scelte come il Milan, l'Alastio, che mi lasciano un po' perplesso. E dato che prima abbiamo parlato di Baroni e delle giovanili della Juventus, un focus sulle giovanili della Juventus lo facciamo con molto interesse e con molta felicità perché? Perché l'ultima partita in Serie A della Juventus ha visto in panchina come allenatore Paolo Montero, tra l'altro in un Juventus-Monza che ho visto allo stadio e che mi ha particolarmente divertito. Montero comunque due panchine in prima squadra per la Juve, un pareggio a Bologna con tripla rimonta e una vittoria in Serie A contro il Monza, quindi diciamo che le due partite lo scorre di Montero di tutto rispetto. Montero l'anno prossimo rimarrà all'interno della Juventus e allenerà la Next Gen, quindi è una buona notizia, è una bella notizia. Mi fa molto piacere anche perché Montero in questo momento diventa il primo allenatore nella storia della Juve ad aver allenato prima squadra, Next Gen e primavera. Quindi è anche un record simpatico che si porta dietro. Sono contento che Montero possa rimanere a Torino, sono contento che possa aumentare anche il grado di difficoltà rispetto alla primavera e attenzione perché per la primavera si è fatto un nome anche interessante perché nelle ultime ore si sta vociferando, poi vedremo se sarà ufficiale questa cosa oppure no, di Francesco Magnanelli che quest'anno è stato nello staff di Allegri e è rimasto anche nello staff con Montero nelle ultime due giornate e quindi chissà che Magnanelli non possa iniziare questo percorso dall'allenatore delle giovanili dato che credo che non abbia in questo momento il patentino per allenare in Serie A o comunque una prima squadra e quindi pian piano formarsi all'interno della Juventus. Mi piacerebbe, sono anche curioso di vedere l'andamento della primavera e lo sviluppo di questi ragazzi sotto Magnanelli. Tra l'altro è un assist, se vogliamo, Montero in Next Gen a Tiago Motta che arriverà, arriverà, ripeto, io sono tranquillo lato Tiago Motta anche se ancora non c'è l'ufficialità, sono molto tranquillo, arriverà il momento dell'annuncio, delle firme, dell'ufficialità, non mi fascio la testa. In questo momento però abbiamo visto che il rapporto tra Montero e Tiago Motta è buono, anzi ottimo, si sono salutati proprio a Bologna in occasione della partita finita poi 3-3 e ha detto Tiago Motta e anche Montero ha confermato questa cosa che quando hanno fatto entrambi il corso a Coverciano si scambiavano spesso opinioni e robe del genere. Quindi questa sicuramente è un bellissimo asse, anche perché, ripeto, Magnanelli ha lavorato con Montero. Montero ha un buon rapporto con Tiago Motta, quindi praticamente Tiago Motta andrà ad attingere dalla Next Gen. Magari la Next Gen andrà ad attingere alla primavera e tutti questi allenatori che ne stanno tutti con la M, Montero, Magnanelli, Motta, faccio un po' ridere, questa cosa, sono tutti collegati. Ecco, questa è una cosa molto importante, abbiamo parlato per anni di quando c'era il Barça e quel Barça lì, di quello che era anche un po' l'associazione delle giovanili del Barça, ricorderete, giocano tutti con lo stesso modulo, quindi quando fanno il salto e vanno in prima squadra, nella seconda squadra, sono già pronti, sanno già le cose. Quindi questa è sicuramente una notizia molto positiva e lungimirante, all'avanguardia, lato Juve che mi rende molto felice. So che per tanti discorsi relativi alle giovanili non sono così impattanti, così importanti, ma ragazzi fidatevi di me, fidatevi di uno stupido. Quando succedono queste cose, quando c'è questi assi, significa che si sta lavorando particolarmente bene. Faccio un nome, se ne era parlato tanto a gennaio, sembra potesse arrivare magari già a gennaio per la next gen, invece arriverà quest'estate, Aztic, centrocampista offensivo, un po' trequartista, un po' alla classe 2006, Montenegrino, che si ispira un po' a Vucinici, un po' a Jovetic. Quest'anno sarà aggregato alla next gen, però ieri sentivo Momblano che parlava e diceva che, attenzione, Diago Motta potrebbe volerlo valutare durante la preparazione estiva e poi, nel caso, rispedirlo agli ordini di Montero. Vedete? Se ci sono dei giocatori interessanti che possono completare poi la rosa della prima squadra, ecco che può diventare qualcosa di molto molto bello e molto equilibrato. Lato Copmeiners si sta muovendo un po' qualcosina, perché l'altro giorno avevamo parlato delle potenziali contropartite sulle healing e che in questo momento sono un pochino più spostate verso il no. Si parla tanto di Wisen, che potrebbe essere un giocatore importante per Atalanta dopo l'infortunio di Scalvini. Tra l'altro io risentivo qualcuno che diceva sì, però non è nemmeno un'accessione definitiva. Si sta lavorando per capire come incastrare questa roba qui, perché c'è distanza comunque tra le valutazioni magari o sulla formula. Si vuole trattare, si sta cercando di trattare. Copmeiners ha già dato disponibilità al trasferimento, lo sappiamo, ed è stato lui stesso a dire che questa sarà la mia ultima stagione all'Atalanta. Sembrerebbe la sua volontà quella di rimanere in Italia. Ne parlava anche l'altra sera qui sul canale Romeo Agresti. E quando dici voglio rimanere in Italia, e la valutazione è quella lì, difficilmente, anzi, secondo me è impossibile che nessuna squadra in Italia potrà tirare fuori 60 milioni cash per andare a prendere Copmeiners, per rispondere a quelli che mi dicevano ma non hai visto i bilanci, le perdite, i rossi della Juve, ma secondo te come fa? L'ho già spiegato, non è che la Juve va a tirar fuori 60 milioni cash. Io credo che in Italia nessuno oggi lo possa fare. Nessuna squadra, neanche quelle che vinca allo scudetto. Poi la Juve sta lavorando per un pareggio di bilancio, è un pareggio di bilancio che dovrebbe arrivare tra qualche anno. Non mi preoccupo perché la priorità della Juventus in questo momento sembra essere una priorità sportiva, dopo tanti mesi invece che ci siamo raccontati che alla Juventus non si parlava di sport, non si parlava di calcio, non si parlava di campo. Ecco, ora invece sì, anche con l'arrivo di ieri di Pompilio che è lo storico braccio destro di Giuntoli, lavoreranno insieme, Giuntoli è stato il vero colpo dell'estate scorsa, anche se non aveva ancora avuto modo di lavorare, è iniziato a programmare. Quindi oggi la Juventus è una squadra che ragiona dal punto di vista sportivo. Mi dispiace per quelli che gufano magari anche pensando al bilancio della Juve, ma no, la Juve ha volontà, assoluta volontà di fare un mercato di livello, assoluta volontà di fare una squadra di livello, assoluta volontà di tornare a competere. E questa è una notizia meravigliosa per noi juventini e per quello che ieri vi dicevo lasciatemi anche un po' sognare perché avverto veramente un'area positiva. Poi, se non sarà così, faremo i conti con la realtà e ci andremo a sbattere il muso. Per il momento voglio partire con questa positività che sta aiutando tanto, secondo me, e bisogna andare avanti. Cobmeiners, che sembrerebbe avere addirittura un principio di accordo con la Juve sulla base di 4 milioni circa netti a stagione, è uno stipendio buonissimo. L'altro giorno parlavamo di una sorta di salary cap interno della Juve sui 5 milioni, ecco. Quindi Cobmeiners addirittura dovrebbe essere sotto questo salary cap, poi andremo a vedere, perché anche Tiago Motta all'inizio si diceva un po' così, poi sembra un po' di più, però non immagino oltre i 5, anche perché ovviamente Cobmeiners non andrebbe ad usufruire del decreto crescita. Voglio però parlare sempre di healing perché potrebbe essere incastrato in un'altra trattativa perché si sta tornando a parlare di Greenwood. Si sta tornando a parlare di Greenwood. Io ho già parlato di Greenwood, ho già spiegato la mia posizione sull'extracampo di Greenwood. Non voglio stare a ripetermi, ne ho parlato qualche settimana fa, trovate il video qui sul canale, basta ricercare all'interno del motore ricerca YouTube Luca Toselli Greenwood e trovate tutte le informazioni, quindi non voglio sottrarvi ulteriore tempo, però se parla di healing più soldi al Manchester United, io se fossi healing, che è un calciatore che non è ancora formato e ho la possibilità di andare o all'Atalanta o all'United, non ci penso mai, vado all'Atalanta per farmi formare, poi all'United ci arrivo quando magari sono già un calciatore pronto, ma questi sono i miei due centesimi e mi viene a pensare che se si sta cercando Greenwood è perché l'obiettivo è quello davvero poi di arrivare a cedere sia a Chiesa che sulle, ma queste sono soltanto congetture, sono soltanto miei ragionamenti, però è ovvio che sennò difficilmente vai a prendere un giocatore di quel tipo lì. Chiesa sulle e healing, perché healing è appunto il giocatore che andrebbe ceduto. Non lo so, non lo so se sarà davvero così, siamo nelle mani di Cristiano Giuntoli, vediamo che cosa sta cucinando. L'altro giorno uno mi ha scritto un commento veramente bello del tipo un uomo, un DS, uno chef, quante cose che è Cristiano Giuntoli, mi ha fatto riderissimo e quindi ve lo riporto. Chiudo una piccola appendice finale sui convocati dell'Italia, perché sono usciti ieri i convocati definitivi, sono stati esclusi Provedel, Ricci e Orsolini, tra l'altro Orsolini mi ha sorpreso come taglio abbastanza, pensavo uscisse piuttosto il Sharawi, invece che Orsolini, e invece non è stato così, quindi molto molto curioso. Quindi confermati quattro giocatori della Juventus per la spedizione degli europei, Gatti, dopo gli infortuni di Acerbi e Scalvini, quindi Gatti ce l'ha fatta con le bambole voodoo, io ve l'immagino a casa, che metteva gli spilli nella pubalgia di Acerbi, e spero di non a Scalvini, poverino, perché Scalvini ha avuto un bruttissimo infortunio. Cambiaso, invece, sapevamo che sarebbe andato all'europeo, così come Chiesa, anzi mi immagino che possono essere anche giocatori importanti, magari Cambiaso uno di quelli che non parte subito il titolare, ma poi viene fuori nel corso gli europei, un po' come era stato a Chiesa nell'ultimo europeo che abbiamo vinto, dato che all'inizio il titolare era Berardi, poi quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, lì entra in gioco Federico Chiesa, da una bella svolta all'europeo, tant'è che secondo me è uno dei giocatori più importanti dell'europeo vinto, Federico Chiesa dovrà cercare di ritrovarsi, secondo me quest'anno farà molta più fatica rispetto all'epoca, perché viene da un infortunio pesante, perché viene da un campionato, anzi un campionato e mezzo non proprio esaltante, vedremo che cosa succederà, tiferò per lui ovviamente, perché ho piacere quando i giocatori della Juventus riescono a trascinare la nazionale italiana, e poi Fagioli, che è stato confermato all'interno della batteria dei centrocampisti di Luciano Spalletti, lo sappiamo, viene da sette mesi di squalifica, lo sappiamo, è sotto gli occhi di tutti, quindi dal punto di vista meritocratico le prestazioni non sono state analizzate, è impossibile analizzare le prestazioni, non si può fare, quindi le scelte di Luciano Spalletti sono scelte anche, non dico discutibili, quanto più curiose, curiose, curiose credo davvero che sia il termine adatto, per quello che dicevo prima, perché se dobbiamo valutare la meritocrazia di Orsolini, quest'anno ha fatto un campionato meraviglioso, difficile lasciarlo fuori, quindi o per caratteristiche tecniche, o per livello, semplicemente, Spalletti ha detto, ok, non è un giocatore che può fare la differenza, così come magari ha valutato Locatelli, un giocatore non in grado di fare la differenza, e Fagioli sì, perché è vero che c'è stata la squalifica, non voglio citarvi Paolo Rossi nell'82, perché sarebbe troppo facile, mi limito a dire che Fagioli, guardando la rosa del centrocampista di disposizione dell'Italia, è uno dei più forti, siete d'accordo con me? Spero che almeno da questo punto di vista possiate essere d'accordo parlando squisitamente di campo, prettamente di campo, poi magari non è così, magari poi il campo ci darà un'altra roba, io guardo la lista dei centrocampisti d'Italia, e dico, boh, per me l'unico davvero intoccabile è Barella, ma in tutta la nazionale italiana, cioè l'unico giocatore che davvero è, per me è Barella, all'interno di questa nazionale, che vedo un po' un enigma, vedo una nazionale anche un po' in difficoltà, quindi aumentare la qualità con Fagioli può essere soltanto che un bene dal punto di vista del campo, è stato fuori tutta la stagione, sì, la scelta è stata tutta di Luciano Spalletti, se farà bene, Luciano Spalletti sarà stato un genio, se farà male, Luciano Spalletti avrà commesso un grande errore. Vedremo che cosa succederà durante questa spedizione, che poi andrà un po' a incastrarci anche l'automercato, perché anche Calafiori alla fine è andato in nazionale, quindi diciamo che la Juve ha un terzino, destro-sinistro come Cambiaso, un centrale di difesa 3 come Gatti, un centrocampista, forse tra i migliori dentro l'organico della nazionale come Fagioli, un giocatore di riferimento dell'ultimo europeo evento come Chiesa, e un giocatore che potrebbe presto diventare bianconero come Calafiori, basta solo avere un po' di pazienza. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, anche perché abbiamo già detto tante tante cose, abbiamo toccato tante tematiche. Ciao a tutti ragazzi.